Che vita di merda Comunque ti dice solo un attimo di pazienza eh Dio cavara a schiaffoni a schiaffoni e gli darei gli attimi di pazienza Maledetto Gesù di Dio Ma per come si fanno entrare? No perché c'è scritto se non riesci ad entrare c'è scritto ad eliminare la cacca dalla Playstation Le cacche Entrerai nel gioco nell'ordine in cui hai effettuato l'accesso Sì ma io dalle 8 e 0 un minuto che cosa cambiano ad entrare a fare l'accesso Dio honto di Dio Ho cambiato un attimo il canale sono tornato i server di Destiny non sono Comunque ragà è inizio alle 23 e 11 Si Che si può giocare Non gioco Come alle 23 e 11 All'inizio alle 11 perché resta un extra aggiornamento in più No diattacca Che ridice No c'è non capato Che successo? No no Nico è così mi dispiace Nico Cosa c'è? E come chi senti? E tu potresti essere un legato? E dalle 8 in 0 minuto! Guarda, quelli della Bungi non hanno solo la madre puttana ma hanno anche gli occa la sorella, la zia, la nonna, gli occa tutte ce le hanno! Sti brutti figli di puttana Sono tutte... Ma si? Ma adesso... ... ... ... Ma ce n'è uno tra gli amici che sta giocando? Mi manda un messaggio come cazzo hai fatto ad entrare? ... Ma Nico scusa almeno ti premio Dice un attimo di pazienza ... 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